E finalmente, dopo quanto sarà 11 anni, finalmente ne possiamo parlare. Possiamo parlare di una saga che amo e che considero la mia preferita, ovvero la saga di Crash Bandicoot. E possiamo parlarne grazie all'uscita della Ensane Trilogy, la rimasterizzazione, tra virgolette, poi capirete più avanti il perché di queste virgolette, dei primi tre capitoli usciti su PlayStation 1. Il video ovviamente è in un ritardo mostruoso, il gioco c'è da una settimana circa, quindi fare adesso una recensione non ha assolutamente senso, ma ho avuto tante di quelle problematiche nel frattempo che lasciamo perdere. Però ci tenevo veramente tanto a farlo questo video, perché come ho detto è la mia saga preferita, io sono nato videogiocatore con Crash Bandicoot, quindi volevo farla comunque. Però non è una vera e propria recensione, perché secondo me non ha proprio tantissimo senso fare una recensione completa, perché non è un gioco normale. La chiamo io recensione perché ovviamente fa più figo, però recensire, di solito una recensione si analizza il gameplay, la storia, i personaggi, eccetera, o la realizzazione. Qua non puoi più di tanto, perché comunque, tranne la realizzazione, tutto il resto sono giochi che sono già usciti, sono appunto rimasterizzazioni. Quindi recensire Crash Bandicoot e Nsane Trilogy è come recensire i primi videogiochi, che è PlayStation 1, trova un po' il tempo che trova, secondo me. E per questo motivo sarà anche un video abbastanza breve. Quello su cui mi voglio concentrare, appunto, è la realizzazione, la punta di diamante di questo videogioco, perché la realizzazione è un qualcosa di superbo, è un qualcosa di eccellente, di perfetto. Posso usare veramente questa parola, finalmente, questo gioco è perfetto. Non ha nessun problema, sia perché comunque i giochi non avevano nessun problema nemmeno i tempi, sia soprattutto veramente per come è stato realizzato. Ed è il motivo per cui non mi piace parlare di rimasterizzazione. Perché con rimasterizzazione io penso a una semplice pulizia in HD. L'abbiamo vista tantissime volte nell'era PlayStation 3, con tantissimi giochi PlayStation 2. Mi viene in mente l'Hitman Trilogy o la Tomb Raider Trilogy. Insomma, appunto, quelle trilogie, quelle raccolte di giochi veramente rimasterizzati. Prendi l'originale, pulizia in acqua e lo ributti sul mercato. Perché quello che abbiamo tra le mani è un gioco fatto da zero. Loro hanno preso i primi tre Crash Bandicoot e li hanno rifatti da zero con grafica moderna. Ecco perché non mi piace parlare di remastered. Ed era quello che, almeno io chiedevo, non so in che video l'ho detto, ma l'ho detto un po' di volte. Io non chiedevo un nuovo capitolo, perché capivo che era difficile. Era una saga morta da anni, quella di Crash Bandicoot, gli ultimi capitoli sono stati uno peggio dell'altro. Poi Manual Activision, che è comunque tuttora in Manual Activision, io non è che mi fidi più di tanto. Però capivo che c'erano delle difficoltà. Quindi, cosa fare per testare un po' la gente, no? Se effettivamente era una saga che poteva tornare in vita? Fare una rimasterizzazione uno a uno dei primi capitoli. Un dio una rimasterizzazione, alla fine l'ho usata. Comunque, riportare uno a uno i primi capitoli con grafica moderna. E appunto... Quindi veramente, quelli di Vicarious Visions hanno fatto un lavoro eccellente. Perché è tutto quello che sognavamo da anni. E speriamo che, comunque, le vendite sono abbastanza buone. Quindi, 99 su 100, è possibile che la saga continui. Purtroppo, come ho detto, ancora emana l'Activision. Quindi non mi fido. Però, vedremo solo il futuro. Ci dirà cosa sarà. Ne consiglio l'acquisto? Ma nemmeno da dire, assolutamente sì. È un acquisto, secondo me, imprescindibile per qualsiasi possessore di PlayStation 4. Che siate sia i grandi fan che l'hanno giocato ai tempi sulla PlayStation 1. Perché troverete una riproduzione fedele. È proprio veramente un tuffo nel passato. E se invece, comunque, non avete magari toccato la saga. O non siete particolarmente amanti di Crash Bandicoot. Comunque, tra le mani, avete un ottimo platform. Molto divertente. Molto colorato. E con tantissima sfida. Le bestemmie che tirerete giù non saranno poche. Diciamo che non è il motivo per cui avere una PlayStation 4. Ma è uno dei motivi per averla. E qui vorrei spendere due parole su una news che sta girando in questo periodo. Ovvero, sulla sua non esclusività PlayStation 4. Perché alcuni dicono che non c'è il logo sulla cover. Che non è stato comunque fatto nessun riferimento. E che, comunque, ci sono anche dei siti che stanno aprendo le prenotazioni per la versione Xbox. Tanti a leggere questa notizia, una volta letta, hanno detto. Ma io sono contento. Perché così dà la possibilità di giocarla a tutti. È vero. Ma io non sono contento. Perché, primo, mi dispiacerebbe vedere Sonic. Che, in modo molto stupido, perdere le esclusività su, almeno, i primi tre capitoli. Perché un capitolo successivo va bene. Ma i primi tre Crash Bandicoot devono essere esclusiva. E che sia colpa di Sony o di Activision, che ha voluto non dargliela completamente, è veramente una cosa da idioti. E poi, diciamoci la verità, giocare un Crash Bandicoot su Xbox, o ancora peggio, su PC, è veramente da stronzi. Perché è come giocare un Super Mario su PlayStation, no? Domani, magari, possono annunciare Super Mario per PlayStation, ma tu, o Xbox, ma tu, comunque, lo vai a giocare su una console Nintendo. Prendendo come giochi i Super Mario sulle console Nintendo, i Crash Bandicoot vanno giocati, assolutamente, su una console PlayStation. Punto. Quindi, ovviamente, ne raccomando l'acquisto, ma su PlayStation 4. Anche perché serve la croce direzionale tantissimo, e con un pad Xbox, che comunque potete usare anche su PC, no, non è la stessa identica cosa, assolutamente. Quindi, veramente, su, compratelo su PlayStation 4. E non ho nient'altro da dire, mi dispiace, purtroppo, per il ritardo di questo video, e noi ci vediamo al prossimo.